Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Da lunedì 25 settembre lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la mobilità sarà operativo nella nuova sede di via Silvio D'Amico 38 in zona San Paolo. Con la metro BB1 si può raggiungere dalle stazioni Marconi o Basilica San Paolo. Allo sportello, lo ricordiamo, si accede sempre e soltanto su appuntamento che si può prendere chiamando il numero 0657003 oppure attraverso l'app Solari Q. Ricordiamo che sarà possibile accedere allo sportello soltanto con il QR code rilasciato dall'app oppure con il codice fiscale indicato nella prenotazione. Per saperne di più, romamobilità.it